Se tanti stanno chiedendo se siamo sui pop tv, quindi è inevitabile, noi ne abbiamo già parlato in altre occasioni, magari la diciamo anche qui questa cosa Questa foto sulla DPG che sei andato a Roma con loro, hai pubblicato una foto, tutti chiedono perché, che cosa succederà Allora, stasera viene Said a trovarmi qua, forse viene anche Wayne, ragazzi ma non capisco sinceramente cosa ci sia di strano Cioè sono dei ragazzi che mi stanno simpatici, che ci stanno dentro, sono, come dicevo, sono amici, comunque sono nel crew di Luke che è anche in blocco record Ed è un artista, editorialmente parlando di Carosello e Cursino, quindi comunque abbiamo, diciamo, due casi in comune Certo E poi boh, se non capisco che cazzo ci trovano di strana, tanti dicono, eh ma tu parli tanto di musica fatta col cuore, messaggi così E poi esci con questo, dico, e allora, a parte che la musica è ignorante, l'ho sempre fatta pure io, no Certo Due, voglio dire, cioè se mi vai, esco anche con Speedy Cash, voglio dire, cioè che cazzo me ne fregano Ma poi tanto tu l'hai vissuto un po' anche sulla tua pelle, allora, all'inizio, no Eri un po' quel personaggio outsider, no Sì, sì, odiato e amato Odiato e amato Quindi io, simpatia a prescindere, i ragazzi mi stavano già simpatici prima di conoscerli Poi gli ho conosciuti, si sono riconfermati delle persone serie, molto più serie, per sicuro, di tanti rapper che fanno, e poi non capisco un cazzo Di cuore, io ci ho legato a molto, cioè dovessi fare una roba, la faccio centomila volte più volentieri con loro che con altre mille Beh, chiudiamola veloce, ma cosa c'è di strano nel successo che è la DPG? Cioè cosa non piace secondo te? Allora, secondo me, ma questo è quello che direi a loro Quello che la gente fondamentalmente fa fatica a capire, ma che sono sincero, facevo fatica a capire pure io all'inizio Quando questo fenomeno, diciamo, era ancora in crescita È il fatto che riscontessero tanto successo nonostante delle carenze tecniche Perché comunque tecnicamente parlando nel rap, non è che siano proprio dei fenomeni, voglio dire Cioè non è che scrivono le rime della vita, le metriche della madonna, no E anche un po' secondo me ci giocano con questa roba di fare proprio il rap fatto in maniera ignorante, no Però in realtà nell'immaginario, soprattutto dei giovani, piace questa roba Perché comunque loro si possono guardare, tutti e quattro, comunque Non neanche diciamo le facce da babbi Si sanno vestire, giocano in questa roba Ferragamo, Bentley Quindi i ragazzini vanno fuori, no La gang, lo slang Poi non so se ti guardi l'Instagram Stories e si fa morire Fa morire C'è tutto pussy ass, bitch A me fanno ridere, quindi ti dico personalmente Cioè c'ho legato subito, vuoi dire, non è stata una roba forzata, capito? Certo, assolutamente Va bene, ti lasciamo con il tuo camerino Ci sono tante domande, ma ovviamente Amy Schilla Non so se dico una cosa sbagliata È un po' nella family anche di PopTV Assolutamente Sempre incrociati più volte Quindi ti aspettiamo molto presto anche nei nostri studi Lunedì prossimo sei a Roma all'Atlantico Stasera all'Alcatraz Mega Concerto di Amy Schilla Grazie bravo Bella guada Ciao a tutti, ci vediamo